Papà, ma dove stai andando che ti stai vestendo? Vada a prendermi un caffè. Papà, dove? Non sono chiusi il caffè, non hai capito? Tu sono chiuso. Sì, è tutto chiuso. Vada a prendermi un caffè. No, papà, non puoi uscire. No, riesco a prendermi un caffè, sono stante stupro. No, non puoi uscire, papà. Vada a prendermi un caffè, ciao. Dove vai? Vada a prendermi un caffè. E tanto è tutto chiuso. Scusi, è aperto il vato. Sì, prego. Si può avere un caffè? Va bene, sì. Grazie. Oh, Robè, ora ci abbiamo un bel caffè. Ma chi l'ha preparato? Io. Ma te li sei lavate le mani prima? Ma prima di prepararlo o dopo? Io. Ma i quanti li hai messi? I quanti. Prima o dopo? Ma li hai messi i guanti quando hai preso la caffettiera? Sì. E il cucchiaino? L'hai preso con i guanti o senza? No, il cucchiaino. E i bicchierini come li hai presi? E la busta del caffè dove l'hai comprata? Al supermercato? E quando l'hai comprata sei sicuro che non l'ha toccata nessun altro? Sì. E quanta gente c'era al supermercato? Ma baffanella! Alla prossima! Dis escape! Grazie.